... Sì, c'è un po' di scuola. 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 di scuola. E' un po' di scuola. E' un po' di scuola. E' un po' di scuola. E 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 un po' di scuola. E' il meglio che ci ha portato. Un grande personaggio oggi. Valeri ci hai portato. Un grosso personaggio. Grazie. La verità. A metà mattinata. Con un yogurt. Una pasta. La pasta. La pasta. La pasta. La pasta. Vai. E vaèèèèèèè. E' un santo che cammina. 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 E' un santo che cammina.